Grazie a tutti. La rabbia si è costituita proprio da un paio di giorni perché c'era proprio un vuoto, perché è giusto che anche noi genitori sosteniamo i nostri ragazzi, ma soprattutto tutti quei genitori che hanno ancora difficoltà ad accogliere e ad accettare l'omosessualità in famiglia. Che differenza c'è? Avere un figlio gay, lesbico, eterosessuale? Nessuna, le posso assicurare nessuna, il problema è degli altri, il problema è della società, il problema è di chi ha i pregiudizi. Un figlio è un figlio, l'amore per un figlio è assoluto. Assoluto. Ultima informazione, come possono trovarvi se volessero contattarvi dalla Calabria o da qualunque altra parte di casa? Agedo Reggio Calabria, agedo.rc.gmail.com oppure la pagina Facebook Agedo Reggio Calabria. Sul sito nazionale di Agedo c'è la referenza. Buon lavoro e buon corteo e buon Pride. Ciao. Grazie. Grazie.